Musica Noi siamo qua oggi per sostenere i comitati di Pelli perché crediamo che questa sia l'inesima opera che privilegia la volontà di cementificazione del territorio, un po' anacronistica anche perché non so se di questo tipo di posteggi ci sia necessità in questo momento se potrebbero essere non fatti o fatti altrove qualcuno dice e in più soprattutto perché crediamo che sia un segnale forte di disinvestimento culturale rispetto alle delegazioni chiudere un cinema che è l'unico cinema di questa zona, che è uno dei pochi cinema rimasti nelle delegazioni genovesi vuol dire dare un altro segnale verso un disinvestimento culturale sulla popolazione che abita nelle delegazioni e appunto come dicevo prima poi investire nuovamente sul cemento ci sembra assolutamente anacronistico, mi sembra che in città ci sia già difficoltà alcune volte a vendere i box che sono stati fatti copiosamente anche per la scarsa disponibilità economica delle persone quindi investire e consumare il territorio nuovamente non ci sembra una visione di futuro tu però ormai sei lì nella sedia della Sala Rossa noi saremo nella sedia della Sala Rossa e cercheremo in questo caso di trovare tutti gli strumenti da portare in Sala Rossa per cercare di fermare questa iniziativa ora stiamo studiando cosa si può fare speriamo di avere l'appoggio di tante altre forze politiche che dicono di essere vicini ai cittadini noi vogliamo esserci e proviamo a fermare la distruzione di questo cinema e di questa area storica verde di Pelli www.plli.com.info . non lo so perché non lo so ma in periodo di quest'ora si è un piccolo da che c'anni mi sono sciocchi sotto a sto cammino su mia azze che man visto cura bim e a rego e la mengi cuccare di un piccolo da che c'anni su via sta ciapparuta a tucatì i cumpiti gufetu della tì e gomangio oltre nette e menestruì ma se ti stai cacciando giù dal cuo ti vedi gama donna da paesù o la fetta o me bacca trent'anni fa per grazia ricevia il mezzo a me piccolo da che c'anni sono tutti i corpi dati se proprio fa ne a me non ti no per piccolo da che c'anni crede in me poche volte o gente o gente non mi mo chungo troppo facilmente ma quando ho visto casa piccone a stanza dove che nasci il me muè e se affermò qualcosa proprio chi o cento e o prego prego o cusci piccone delle cianì su tutti i corpi dati sono tutti i corpi dati se proprio fa ne a me non ti no per piccolo da che c'anni fermi te in po' piccone t'arrabbo in mo' in tocco de poesia du cian de pi capria una loro piccola macchina perché mi risulta che siano anche piccoline le macchine grosse non ci stanno a questo punto forse dovrei sperare che si vendano tutti e si vendano in fretta così almeno i lavori finiscono prima e il cinema all'aperto perlomeno possa riaprire ma sarà molto difficile sembra quasi un pretesto per poter impadronirsi di tutto l'immobile e farci dell'altro questo mi dispiace sono anche commosso perché tantissima gente così non me l'aspettavo neanch'io grazie grazie